Lei è stato, come ho detto prima e come tutti sanno, Premier, Presidente del Consiglio Italiano per tre giorni. Di questi tre giorni, qual è quello che ricorda con più felicità e quello con più dolore? Più felicità, devo dire, quando me ne sono andato, perché l'incarico sarebbe stato piuttosto complicato. Dolore, ma diciamo con forse più incertezza, paura, la sera prima che me ne potessi andare, perché a quel punto lì, la sera prima, sembrava che dovessi fare davvero il Presidente del Consiglio per qualche mese almeno. Cosa che sarebbe stata molto difficile. Avrebbe, qualora avesse deciso di continuare, come poi lei non ha fatto, avrebbe scelto un nome d'arte come fanno spesso i papi o avrebbe mantenuto Carlo Cottarelli? Ma credo che sia usuale in Italia mantenere il proprio nome, che altrimenti avrebbero pensato che, non so, volevo fare il re, qualcosa del genere. Sono i re che si mettono Carlo I, Carlo II, non avrei mantenuto il mio nome. Professor, io la ringrazio di essere venuto quest'oggi qui in trasmissione. Le volevo fare un'ultimissima domanda, visto che abbiamo parlato di soldi e di economia, però preferisco non fargliela io, ma fargliela fare da una persona che credo rappresenti il futuro di questo paese. Vediamola assieme. Signor Cottarelli, la mia mamma mi ha detto che esistono tante guerre e tante cose brutte nel mondo per colpa dei soldi. Non sarebbe meglio se non esistessero. Grazie.